Musica Ci siamo quasi, si sta avvicinando l'edizione 2015 dell'Intrepida vedete qua il nostro librettino in cui c'è scritto praticamente di tutto Domenica 18 ottobre, esattamente da qui, Piazza Baldaccio partirà la quarta edizione della cicloturistica su Bici d'Epoca organizzata dal gruppo sportivo Fratres Dynamics Bike adesso è una piazza praticamente deserta, seppur ovviamente sempre splendida per domenica mattina invece ci sarà, così come nelle prime tradizioni un bellissimo panorama perché sarà una piazza piena di Bici d'Epoca piena di atleti, corridori, appassionati che sono vestiti con abbigliamento consono all'evento quindi una piazza che ci regalerà grandi emozioni noi per fare un regalo a tutti gli appassionati dell'Intrepida quest'anno andremo a conoscere il percorso e lo riprenderemo ci fermeremo nei punti più importanti di quelli che sono i tre tracciati previsti per l'Intrepida quello corto da 42 km, quello lungo da 85 km e la grandissima novità, il percorso intrepido da 120 km quindi seguiteci, andremo a conoscere il percorso e vi terremo aggiornati primo stop in questa nostra ricognizione sul percorso dell'Intrepida perché ci troviamo in un punto sicuramente importante non questo esattamente dal quale vi sto parlando ma il contesto perché siamo nella piana della battaglia dove il 29 giugno del 1440 fu appunto combattuta la battaglia di Anghiari uno scontro che ridisegnò i confini della Toscana e che fu reso celebre dal maestro Leonardo da Vinci perché l'Intrepida non è solo ciclismo, non è solo sport, non è solo passione ma anche scoperta dei territori e scoperta della nostra storia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco da qua arriveranno gli intrepidi ciclisti dalla zona che contraddistingue la Golena del Tevere lì praticamente termina il primo tratto di strada bianca un tratto di strada bianca sicuramente importante che caratterizza i tre percorsi dell'Intrepida e questo ci permette anche di ricordare che in totale sono circa il 40% del percorso le strade bianche e sterrate da qui poi si andrà nella strada, la salita, inizia il primo tratto di ascesa quello che porta verso il ristoro del Ponte Allapiera quindi la salita dei monti così come la chiamiamo noi e le difficoltà altimetriche si faranno sentire anche se siamo soltanto all'inizio di questa giornata di festa che è l'Intrepida questo mi permette anche di ricordare i cartelli che sono posizionati lungo il percorso perché abbiamo cercato di segnalare tutto in maniera diciamo migliore c'è la freccia verde che contraddistingue il percorso corto da 42 km c'è la freccia blu che contraddistingue il percorso lungo da 85 km e la freccia rossa che contraddistingue il percorso intrepido da 120 km ovviamente adesso li troverete tutti nello stesso cartello perché ancora il percorso è uguale per tutti poi però ci saranno diramazioni differenti quindi attenzione ai cartelli, seguiteli bene perché il percorso è segnato quindi ripetiamo, qui termina il primo tratto di sterrato ora si va in salita e noi ci ritroveremo al Ponte Allapiera Grazie a tutti Ed eccoci finalmente arrivati al primo punto di ristoro dell'intrepida siamo non soltanto al primo punto di ristoro ma siamo in uno dei posti sicuramente più belli una delle chicche del nostro territorio è anche dell'intrepida il Ponte Allapiera siamo proprio nell'antico ponte insomma che caratterizza questo splendido luogo e da qua sbucheranno gli intrepidi ciclisti che attraverseranno il ponte tutti avranno occasione qui di gustarsi il primo appunto spuntino chiamiamolo così anche se poi è uno spuntino sostanzioso che è stato preparato dalla SD Motira dell'Assunta in collaborazione con il circolo Il Ponte ci sarà in questo caso anche la possibilità di timbrare questo carnet insomma perché ogni punto di ristoro deve essere certificato e quindi ci sarà un grande assembramento sarà un grande spettacolo perché biciclette, atleti e grande festa e soprattutto l'occasione di gustarsi le prelibatezze del nostro territorio per la visione Grazie 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 a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti